Lo chiamano l'uomo nero, il lupo mannaro di Wisteria, il vampiro di Brooklyn, il maniaco della luna e l'uomo grigio. Comunque vogliate chiamarlo, lui è Albert Fish, uno dei serial killer più pericolosi e malati che abbiano mai camminato su questa terra. Ciao, belli edizio, sono Andrew e questo venerdì non sono pronto a raccontarvi questa storia. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Ma forse la storia di oggi potrebbe essere troppo anche per voi. Consiglio comunque di mettervi comodi e di non infilarvi aghi da nessuna parte, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Ve lo dico subito, se siete sensibili non guardate questo video. Oggi parliamo di tutto, cannibalismo, omicidi, torpore, devianze sessuali e tanto altro. Per questo sono sicuro che YouTube non mi permetterà mai di monetizzare questo video, quindi se volete sostenere il canale ricordatevi che su Pampling ci sono tutte le magliette che di solito indosso nei video. Oggi non l'ho messa una maglietta di Pampling, vabbè comunque trovate il link in descrizione e con il codice Andrew avete anche delle calze a scelta in omaggio. Comunque oggi scaviamo nella mente contorta di una persona decisamente problematica. Tutte le storie che vi ho raccontato fino ad ora non sono niente in confronto a questa. Parlo in termini di crudeltà, morbosità, ossessione e insanità mentale. Le vittime ci sono state anche nelle altre storie ed è giusto ricordarle, ma oggi davvero non ho molte parole per descrivervi quello di cui parleremo. La prima volta che ho letto questa storia mi è venuto il mio primissimo attacco d'ansia di tutta la mia vita. Mi sono immedesimato troppo in lui e troppo nelle sue vittime e il risultato è stato catastrofico, perché non sapevo gestire tutte quelle emozioni. Ma adesso dovrei aver imparato, quindi eccomi qui. Nonostante mi abbia fatto sentire male, oggi vi racconto io questa storia. Se siete pronti facciamo tutti un bel respiro. E ok, partiamo. Questa storia si svolge all'inizio del secolo scorso, quindi niente cellulari, niente televisione, nessun frigorifero e nessuna polizia scientifica. Ma in realtà dobbiamo partire da ancora prima, dal XIX secolo. Come sapete, il protagonista di questa orribile storia è Albert Fish. Albert nasce il 18 maggio 1870 con il nome Hamilton Howard Fish. Nasce a Washington ed è il più giovane di cinque figli. Uno dei suoi fratelli si chiamava proprio Albert, ma pare che sia morto giovane in circostanze sconosciute, quindi durante gli anni dell'adolescenza Hamilton cambiò il suo nome, prendendo in prestito quello del suo fratello defunto, Albert. Si dice che lo cambiò per via del bullismo che riceveva da bambino, ma a questo ci torneremo. Intanto dovete sapere che i suoi genitori sono Randall Fish, originario del Maine, e Ellen Howell, una donna di origini irlandesi. Riguardo a questa parte della storia, essendo cose avvenute più di 150 anni fa, non abbiamo informazioni certissime. Per questo mi sentirete spesso dire pare che, sembra che, probabilmente, eccetera. Ad ogni modo, suo padre, Randall, è più vecchio della madre di ben 43 anni. Cioè, quando nasce Hamilton, suo padre ha 75 anni. Non credo che fosse usuale una situazione del genere. Oggi sicuramente farebbe scalpore, figuratevi alla fine dell'Ottocento. Ma comunque Hamilton ha tre fratelli in vita, Walter, Annie e Edwin. In generale, la famiglia di cui stiamo parlando è molto strana. Direi decisamente disfunzionale e problematica. Hamilton nasce in un contesto catastrofico. In storie passate vi ho già parlato di famiglie mostruose, anche terribili, ma credo che la famiglia Fish sia tra le peggiori in assoluto. E questo perché molti membri della sua famiglia soffrono di disturbi mentali. E purtroppo i disturbi mentali sono un po' un tabù ancora adesso. Immaginatevi in quell'epoca, che ancora non si conoscevano praticamente. Cioè, si conoscevano, ma non si sapevano classificare, non si sapevano trattare. Cioè, anche volendo non c'erano terapie. Quindi sì, una famiglia davvero problematica. Randall Fish, il padre, è un capitano di battelli fluviali e sembra che fosse un tipo piuttosto violento. Oltre a questo, è probabile che soffrisse di allucinazioni proprio come sua moglie. Nel 1870, l'anno in cui nasce Hamilton, Randall inizia a lavorare come fabbricante di fertilizzanti. Ma solo 5 anni dopo, nel 1875, ha un infarto e perde la vita. Lascia questo mondo a Washington, quando il nostro Hamilton ha solo 5 anni. La sua prima infanzia, come potete immaginare, è stata molto difficile a causa dei suoi genitori, che erano disturbati mentalmente. Ma almeno si è risparmiato un'intera adolescenza con un padre ridotto in quello stato. E probabilmente anche violento. Forse questo, il fatto che abbia perso suo padre così giovane, è stato l'unico sollievo della sua vita. Tra tantissime virgolette. Perché, in realtà, la sua infanzia è tutt'altro che felice. Alla morte del padre, sua madre Ellen perde completamente la testa. Già prima di questa perdita, vedeva cose che poteva vedere solo lei. Ma adesso è da sola, con tanti figli, e alla fine dell'Ottocento. Capite che di base non è una situazione facile. Aggiungiamoci il trauma della perdita del marito, e otteniamo una mamma completamente squilibrata. Infatti, Ellen viene riconosciuta come incapace di prendersi cura dei suoi figli. Così il piccolo Hamilton, e molto probabilmente anche gli altri, vengono sparpagliati in diversi orfanotrofi. Sfortuna vuole che quello in cui viene mandato Hamilton sia un inferno. Forse addirittura peggio della casa dove è nato e ha vissuto. Avete presente lo stereotipo degli orribili orfanotrofi dei secoli scorsi? Ecco, il problema è che per Hamilton è stato davvero terribile come si racconta. Questa struttura si chiama St. John's Orphanage, e per tutto il tempo in cui ci vive viene frequentemente bullizzato. Non solo verbalmente, ma anche fisicamente. Hamilton viene frustato e bastonato dalle suore, e anche picchiato ed eriso dai suoi coetanei. Ma la cosa assurda è che le suore, quelle che gestiscono tutto l'orfanotrofio, picchiano i bambini. Normalissimo. In questo uragano di violenza, forse per meccanismo di difesa, non ne siamo sicuri, il piccolo Hamilton scopre una parte di sé molto particolare. Scopre quello che in futuro sarà la sua più grande ossessione, il masochismo. Ebbene sì, forse per accettare la violenza che lo travolge da ogni angolo, si eccita in modo sessuale ogni volta che viene colpito. E diventa più forte di lui. Il dolore fisico gli provoca elezioni incontrollabili. E per questo viene preso ancora più in giro dai compagni, e è ancora più bastonato dalle suore. Questo è quello che sappiamo sulla sua infanzia. Un periodo che dovrebbe essere spensierato e felice, per lui è stato invece un inferno. Ma andiamo avanti. Il tempo passa e Hamilton diventa un adolescente. Molto probabilmente un adolescente traumatizzato. Durante l'adolescenza, lo sappiamo, si sviluppa davvero la sessualità. Ormoni impazziti, voglie incontrollabili e così via. Questo avviene anche per Hamilton. Ma come sappiamo, già a quest'età le sue pulsioni sono decisamente particolari. Il ragazzo si fa del male da solo, o chiede ai suoi coetanei di colpirlo sempre più forte. Il dolore, e solo il dolore, gli fa raggiungere l'orghismo. È in questo periodo che cambia il suo nome in Albert. Di fatto prendendo il nome del fratello morto. E lo fa soprattutto per sfuggire al soprannome che gli avevano dato fino a quel momento. Lo chiamavano Ham and Eggs, ovvero prosciutto e uova. I bambini trovavano divertente chiamarlo così, perché il nome Hamilton inizia con Ham, prosciutto, e quindi insomma è una scusa in più per bullizzarlo. Il cambio di nome, quindi, sembra quasi un modo per lasciarsi alle spalle il passato. Come se volesse cambiare in meglio da quel momento in poi. E infatti cambia. Ma in peggio. E diventa l'Albert Fisch che conosciamo. Ergo un mostro malato e spietato. Pronto a tutto per soddisfare le sue voglie perverse e deviate. Nel 1879, quando Albert ha 9 anni, sua madre ottiene un impiego pubblico ed è nuovamente in grado di prendersi cura di lui. Ma il danno ormai è fatto. In seguito, infatti, nel 1882, all'età di 12 anni, Albert inizia una relazione omosessuale con un giovane ragazzo. Era un suo amico e hanno semplicemente deciso di mettersi insieme. Come vi ho detto, sono entrambi molto giovani. Anzi, Albert è poco più che bambino. 12 anni. Ma nonostante questo, fanno cose decisamente spinte. Per esempio, iniziano a praticare la coprofagia. Che per chi non lo sapesse, consiste nel mangiare le feci. In questo caso, se le mangiavano a vicenda, non vado oltre. Perché? Perché sì. E questo ancora non è niente. Ho fatto e sto facendo molta fatica a parlare della storia di Albert. Spero che appreziate il mio impegno, perché davvero... Ok. Comunque, oltre alla coprofagia, Albert inizia a frequentare piscine e bagni pubblici per guardare i ragazzi nudi. Fa quello che oggi chiamiamo voyeurismo. In sostanza fa il guardone, ma non solo. Visto che poi... mangia quello che gli uomini espellono in questi bagni pubblici. Per farvi capire la gravità di questa sua ossessione, vi dico che Albert sta in questi bagni pubblici per giorni interi, spesso nel fine settimana. È pur vero che per ora, per quanto disgustoso, non sta facendo del male a nessuno, ma questi sono segnali forti. Campanelli d'allarme, red flags. Perché è vero che non fa male a nessuno, ma queste sue cose non sono solo perversioni. C'è qualcos'altro. In questo periodo, ha iniziato a dare spazio ai suoi desideri perversi, ma più avanti cadrà inesorabilmente in un baratro di insanità mentale e perversione, trascinando con sé persone innocenti, specialmente bambini. Nel 1890, a vent'anni, Albert si trasferisce a New York e decide di intraprendere la carriera di Gigolo, o meglio, prostituta maschio, come ci tiene lui stesso a specificare. Già da un po' di tempo, in realtà, aveva cominciato a muoversi in questo ambiente molto illegale. È illegale ancora adesso, credo, figuratevi all'epoca. Albert comunque comincia anche a rispondere a vari annunci di donne in cerca di marito. Ma non risponde normalmente, figuratevi. Scrive loro delle lettere talmente esplicite e disgustose da far venire la nausea a chi le riceveva. A quei tempi, questi annunci erano come i nostri siti di incontri. Tuttavia, Albert si limitava a scrivere zozzeria delle sconosciute. Ma oltre a ciò, a New York si sfoga ancora di più. Siamo alla fine dell'Ottocento. Albert è entrato ormai nel giro della prostituzione maschile e conosce molte persone. Uno di questi conoscenti un giorno gli presenta un capitano di un piroscafo, un certo John Davis. A quei tempi, i seri un gigolo, i porti, erano un luogo perfetto per trovare clienti. Molti marinai pagavano volentieri per delle sveltine, sia con uomini che con donne. Immaginate le malattie venere, ma figuratevi, Albert mica si preoccupa di queste cose. Anzi, è più che felice di entrare in quest'ambiente e di conoscere quest'uomo, John Davis. Sarebbe potuto diventare un suo nuovo cliente, ma invece questo John Davis mostra al nostro ragazzo una nuova strada, un nuovo percorso di vita ancora peggiore e ce ne vuole. Eppure è così. Il capitano John racconta ad Albert di quando era stato in Cina durante il periodo della Grande Carestia. A quel tempo e in quel luogo milioni di cinesi sono morti di fame e di stenti. Egli raccontò che la situazione era così grave che le persone vendevano i propri figli. Li davano a gente che toglieva loro la vita e vendeva la loro carne al mercato per chiunque volesse mangiarla. Quindi qualcuno mangiava anche carne umana, non solo di bambini ma proprio in generale. E così questo capitano raccontando questa storia fa intendere ad Albert di aver mangiato proprio della carne umana. John Davis, anzi, se ne vanta. Come se fosse la cosa più figa che avesse mai fatto. Gli dice particolarmente che mangiare il fondoschiena di quei poveri bambini era meglio della carne di vitello. La descrive come una roba sopraffina. Scusate, ma parti come questa le devo necessariamente censurare un po'. Capitemi. Comunque, come se non bastasse, racconta ad Albert di aver rapito due bambini new yorkesi, di averli uccisi e poi mangiati. Inutile dirvi che questa è un ulteriore, una grossissima red flag, perché Albert crede a tutta questa storia e gli piace. Cioè, magari questo John Davis poteva anche avergli raccontato delle balle. Capita che qualcuno ogni tanto si inventa e racconta cose senza senso chissà per quale motivo. Ma al di là di questo, Albert questa storia dei sederi umani e in generale di mangiare la carne umana la prende molto seriamente. Vorrebbe provare anche lui queste esperienze. Gli sembra una cosa davvero allettante. Pare che da questo periodo in poi, infatti, abbia iniziato a violentare i ragazzi. Crimine che continuò a commettere praticamente per tutta la vita, come anche continuò a farsi del male da solo. Ma arriveremo anche lì. A questo punto della sua vita in cui sta sperimentando schifezze peggiori di quelle di prima, sua madre Ellen è preoccupata per il fatto che non si fosse ancora sposato. Erano altri tempi, ragazzi, e se non ti sposavi eri mal visto, per cui preoccupandosi più di questo, piuttosto che di tutto il resto, all'età di 28 anni Albert si ritrova in un matrimonio combinato dalla madre. È il 1898 e Fish si sposa con una donna di 9 anni più giovane di lui. Si chiama Anna Champman. I due in poco tempo mettono al mondo ben sei bambini. Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John ed Henry. Come padre Albert, indovinate, non è il massimo. In gran parte perché continua con le sue manie e col tempo sembra sempre peggiorare. A volte chiede ai suoi stessi figli di fargli del male fisicamente. Ai suoi stessi figli. E pare che in questo periodo avesse iniziato a infilarsi degli aghi dentro lo scuro. Quindi capite? Cioè, per godere si infiltrava i testicoli. Anche i testicoli. Ma non solo lì. Anche dietro. Anche dentro il buco del sedere. Che fatica. Nonostante tutto questo, Albert continua sempre a frequentare ambienti loschissimi e a fare del male a dei ragazzi. È probabile che la moglie e i figli non sapessero nulla ma solo per un po' di tempo perché dopo un po' si accorsero delle sue stranezze. Alcuni di questi comportamenti infatti li mostrava anche in casa. Ma comunque all'età di circa 33 anni viene addirittura arrestato ma non per i suoi comportamenti violenti. Stranamente. Viene arrestato invece per appropriazione indebita finendo per essere condannato al carcere Sing Sing nel 1903. Anche in prigione le sue parti intime non conoscono tregua e ha frequenti rapporti con altri detenuti. Non è specificato cosa facesse tra quelle docce e tra quelle celle ma visti i dettagli precedenti possiamo solo immaginare. Comunque esce dal carcere in qualche modo e torna alla sua disgustosa vita. Come vedete questo è un punto in cui Albert è davvero irrefrenabile instancabile e insaziabile. Dovunque posi lo sguardo prende qualcosa o qualcuno e lo vuole possedere o vuole essere posseduto. È evidentemente malato e nel gennaio del 1917 sua moglie Anna per questo lo lascia. Lei si mette con un certo John Strobe un tuttofare che alloggiava a casa della famiglia Fish. Albert non la prende bene anzi la sua già precaria psiche ne risente parecchio e dopo questa separazione comincia a sentire delle voci. Per esempio in un'occasione si avvolse in un tappeto e successivamente spiegò che stava seguendo le istruzioni di San Giovanni. Addirittura disse che San Giovanni in persona gli stava suggerendo di commettere sempre più crimini. Questi episodi si collegano ad un fatto che è successo davvero ovvero quando è stato contattato per dipingere degli angeli nel soffitto di una chiesa. Perché sì Albert sa dipingere molto bene forse quindi questa cosa di San Giovanni potrebbe essere collegata a questo lavoro che aveva fatto. In sostanza però come sua madre Albert comincia ad avere delle vere e proprie allucinazioni. In realtà non si sa con certezza di questi suoi sproloqui su San Giovanni perché le informazioni su questo caso sono tante e spesso confuse. Ricordate che si tratta di un caso molto vecchio e molti dettagli sono un po' sfumati e un po' incerti. Un'altra cosa confusa infatti è per esempio il motivo per cui i suoi figli siano rimasti con lui. Cioè da quando la moglie lo ha mollato questi bambini sono rimasti con Albert. Ma perché? Ok che non si sapeva ancora tutto lo schifo che faceva però qualche segnale l'aveva dato e qualcosa avevano capito un po' tutti. Tuttavia lui poi anni dopo sembra essersi risposato ma anche il secondo matrimonio non ha funzionato. E questo per Albert è stato un ulteriore duro colpo. Ritrovandosi da solo e con sei figli da crescere ha delle grossissime difficoltà economiche. Vagabonda un po' per tutti gli Stati Uniti e salta da un lavoro all'altro. Pare che si specializzi principalmente come in bianchino da libero professionista quindi non è neanche tanto presente in casa a causa di questi viaggi. Viaggi che comunque sfrutta per soddisfare i suoi piaceri sempre più depravati. Pare si sia interessato molto al cannibalismo in senso stretto cioè ha letto e si è informato molto sull'argomento. Inutile dirvi che lo ha trovato molto affascinante. Questo non dovrebbe stupirci perché sul serio il racconto di quel marinaio John Davis era entrato in testa. In questi viaggi in giro per gli States sono stati troppi gli sfortunati che lo hanno incontrato. Troppi quelli che hanno fatto una bruttissima fine. La maggior parte delle sue vittime sono ragazzi poveri, afroamericani, disabili o con la sindrome di Down. Perché proprio loro? Semplicemente perché erano le persone meno considerate della società. Se una di queste veniva stuprata o addirittura moriva non se ne parlava. Siamo agli inizi del Novecento la società è estremamente razzista e disprezza chiunque non rientri nello standard per qualsiasi motivo. E lo stesso Albert ci tiene a specificare in futuro di essere stato furbo ad aver scelto gli emarginati come sue vittime. Ne fa un vanto come se fosse orgoglioso di aver fatto tutto quello schifo a persone emarginate dalla società. Che merda. Comunque ancora non vi ho detto il dettaglio più raccapricciante la maggior parte delle sue vittime sono bambini sono bambini sotto i sei anni e se questo è troppo ragazzi lo capisco dopo parleremo di uno dei suoi omicidi in particolare che è davvero allucinante. Vi avviserò quando sarà il momento così se volete chiudete il video ne guardate un altro non lo so comunque Albert racconterà di questo periodo della sua vita con tanto tanto orgoglio ponendo specialmente l'attenzione su un episodio che lo ha segnato particolarmente ovvero racconterà che un giorno un suo amante lo portò in un museo di statue di cera lì Albert rimase totalmente affascinato da un plastico che raffigurava la sezione longitudinale di un pene da questo episodio tra le altre cose Albert sviluppa anche un morboso interesse per la castazione e questa ulteriore passione se così possiamo chiamarla non è altro che una diretta conseguenza del suo evidente cannibalismo si racconta in proposito che durante una relazione con un uomo con la sindrome di Down tentò di castrarlo dopo averlo legato ma la vittima in qualche modo riuscì a fuggire in tempo Albert allora capisce che non è così facile ottenere quello che vuole per cui si deve accontentare anche questa volta tra virgolette di essere frustato e bastonato nei bordelli luoghi che ormai visita spesso avete notato il suo cambiamento? un sito fa questo commento che trovo per quanto volgare molto appropriato dice che Albert è passato da mangiare merda all'essere un pezzo di merda credo che un commento più sintetico ed esplicativo di così non possa esistere è davvero cambiato questi incontri terribili che ha fatto nella sua vita gli hanno stravolto il cervello cervello già fragile di suo visto che la sua famiglia ha una lunga storia di malattie mentali sotto certi aspetti quindi non c'è da stupirsi il punto è che Albert è diventato un concentrato di orrori un demone vivente e con il tempo uno dei peggiori più criminali mai esistiti ma la cosa scioccante è che al tempo non tutti erano conoscenza di questo suo lato lui in quel periodo è un bravo bugiardo e manipolatore sa come apparire tranquillo un rispettabile gentiluomo del suo tempo quindi un po' come il dottor Jekyll e Mr. Hyde a questo punto comunque siamo ancora nel periodo in cui Fish vagabonda per gli Stati Uniti e si specializza come in bianchino siamo quindi tra il 1898 e il 1910 e pare non abbia ancora ucciso nessuno al momento ma dirà in futuro che in questo periodo molestò e torturò più di 100 bambini mio dio tutto per soddisfare quelle macabre ossessioni che aveva queste vabbè sono le sue dichiarazioni si crede che in realtà ne avesse molestati molti di meno ma comunque è un'atrocità immensa anche se l'avesse fatto solo con uno infatti attenzione le sue azioni non sono da confondere col BDSM perché quello che fa lui sono vere e proprie torture abusi per nulla consensuali ricordiamoci che mangia letteralmente parti delle persone e non sono un esperto ma sono sicuro che non faccia parte del BDSM ho specificato questa cosa perché da qualche parte si fa questo parallelismo dicendo che semplicemente Fish avesse delle fantasie BDSM ma non c'è niente di più sbagliato già ragazzi si parla spesso di minori molto piccoli non scherziamo addirittura lui in futuro vanterà almeno 400 aggressioni in totale nella sua vita ma quelle confermate sono davvero poche e credo che siano poche per gli strumenti di investigazione poco avanzati dell'epoca ma queste poche sono raccapriccianti una delle vittime accertate di Albert Fish è un ragazzo di 19 anni con problemi mentali di nome Thomas Bedden siamo a Wilmington nel Delaware nel 1910 Thomas è sostanzialmente uno dei tanti ragazzi che Albert riesce ad ammagliare ma questa volta dopo averlo portato in una fattoria lo tortura per ben due settimane consecutive Fish adora quando urla di dolore e gore tantissimo nel fargli del male piccola parentesi consiglio ora di schippare qualche secondo se non volete sentire un dettaglio molto crudo ok oltre al resto arriva addirittura a tagliarli il membro a metà aveva pianificato di ucciderlo lì ma poi improvvisamente cambiò idea decide invece di bendare le ferite di Thomas poi gli dà 10 dollari e un bacio come ricompensa e se ne va lasciando il povero ragazzo lì da solo a morire per quanto riguarda questa aggressione Fish dichiarerà in seguito di aver preso il primo treno che poteva per tornare a casa non ha mai sentito che cosa ne è stato di Thomas né ha mai cercato di scoprirlo ora capite perché faccio fatica a parlare di questo mostro ma purtroppo davvero ve lo dico con sofferenza siamo solo all'inizio a questa aggressione segue intorno al 1919 l'accoltellamento di un ragazzo disabile a Georgetown e a seguire attuerà altri crimini violenti questo è il periodo più scatenato di Albert ormai ha sulla cinquantina d'anni e per il tempo è già considerato come un anziano agli occhi degli altri è considerato un vecchietto molto affidabile dolce e disponibile ma è solo apparenza perché dietro i suoi occhi azzurri noi lo sappiamo cioè sappiamo chi e cosa c'è in questo periodo precisamente l'11 luglio 1924 Albert fa amicizia con Beatrice Kiel una bambina di soli 4 anni la piccola Beatrice sta giocando da sola nella fattoria dei suoi genitori a Staten Island Albert le offre delle monete per andare ad aiutarla a cercare piante di rabarbaro nei campi vicini la bambina sta per lasciare la fattoria quando sua madre si accorge della situazione e scaccia via Albert lui però non demorde e torna al granaio più tardi dove prova a passare la notte ma ancora una volta per fortuna viene scoperto e viene di nuovo cacciato avrebbe potuto fare cose indicibili a Beatrice ma almeno lei si è salvata pochi giorni dopo però accade l'inevitabile è il 14 luglio 1924 un bambino di 8 anni di nome Francis McDonald sta giocando in un parco a Staten Island la madre del bambino veglia su di lui e nota Albert passeggiare tranquillamente lì vicino lo vede come un vecchietto apparentemente tranquillo ma non le fa una buonissima impressione perché è borbotta fa degli scatti con le mani insomma fa in modo di ricordarsi di lui e infatti più tardi quel giorno quando il piccolo Francis non torna a casa sua madre pensa immediatamente ad Albert gli amichetti di suo figlio riferiscono di averlo visto con l'uomo dentro un bosco e purtroppo il piccolo Francis verrà ritrovato poco dopo impiato ad un albero con le sue stesse bretelle aveva subito abusi intimi era stato strangolato e addirittura mutato non scenderò in altri dettagli perché altrimenti non so come potrebbe reagire youtube potrebbe togliermi il video credo e giustamente questa volta sarebbe giusto avrebbe ragione quindi mi limito a dirvi questo anche perché ci sono altri due delitti di cui dobbiamo parlare e su cui bisogna per forza analizzare alcuni aspetti quello che sentirete adesso vi farà ribollire il sangue come vi dicevo prima questo è il momento di chiudere il video se pensate che sia troppo da adesso comincia la parte più malata cruda e raccapricciante della storia come avete visto col tempo albert è solo peggiorato ora ha 50 anni inoltrati ed è come se non avesse più freni come se fosse completamente libero in un mondo che sente essere tutto suo ha già compiuto degli orrori ma i due che sentirete adesso sono tra i peggiori perché sono documentati in ordine cronologico è giusto parlare prima del povero billy è l'11 febbraio 1927 un bambino di nome billy gaffney sta giocando insieme al suo amico sulla veranda dell'appartamento della sua famiglia a brooklyn new york entrambi i bambini improvvisamente spariscono l'amico viene ritrovato e quando gli chiedono cosa fosse successo a billy questo bambino dice l'uomo nero l'ha portato via inizialmente per questo rapimento viene sospettato un altro uomo ma noi sappiamo che è stato albert a fargli del male infatti un autista di una linea tramviaria di brooklyn ha visto un signore che in seguito riconoscerà come albert fish l'ha visto salire sul mezzo mentre provava a calmare un ragazzino seduto accanto a lui albert in seguito quello che è successo tenetevi forte non posso riportarvi le parole esatte perché sarebbe troppo ma cercherò di spiegarvi comunque in maniera più fedele possibile albert quel giorno rapisce i due bambini ma per qualche motivo riesce solo a tenersi stretto billy e lo accompagna alle fosse di ricker avenue lì c'era una casa credo abbandonata comunque solitaria quindi lo porta lì dentro e lo immobilizza con tutto quello che riesce a trovare brucia i suoi vestiti e getta via le sue scarpe poi se ne va lasciandolo lì tutta la notte solo e legato albert prende il tram per ritornare a casa e aspetta pazientemente tutta la notte una notte che per il bambino deve essere stata terribile davvero c'è non voglio immaginarmelo mi sto già immedesimando troppo devo smetterla ok il mattino successivo albert torna da billy ma non ci torna mani vuote questa volta porta con sé vari strumenti di tortura uno di questi è una frusta fatta in casa una sorta di gatto a nove code si chiama proprio così e come potete immaginare la uso contro billy ma usa anche altri oggetti oggetti affilati fa in modo di farlo soffrire più che può perché vi ricordo più era il dolore che infliggeva o si faceva infliggere più lui godeva dio mio addirittura gli ferisce così tanto il volto che alla fine il piccolo perde la vita a causa delle mutazioni dopo tutto questo non contento beve il suo sangue poi spezzetta i suoi resti per conservarli alcuni di questi resti li mette in dei sacchi di patate con delle pietre per gettarli da qualche parte mentre userà le parti che ha conservato per accontentare la sua ennesima ossessione le porta a casa e le cucina con cipolle carote rape sedano sale e pepe rivelerà che erano buonissime in particolar modo le parti intime ora capite di che soggetto stiamo parlando non ho più parole solo parolacce quindi è meglio se sto zitto comunque come il marinaio john davis gli aveva raccontato anche albert convenne che il sedere di un piccolo umano fosse la parte più buona si è nutrito di tutta quella roba per ben 4 giorni di fila l'unica cosa che non è riuscito a mangiare dirà sono i testicoli ci terrà a specificare che li ha trovati difficili da masticare e che ha dovuto gettarli nel water questa è l'orribile fine che ha fatto fare ad un bambino innocente non mi sono quasi mai incazzato durante le mie storie ma questa volta porca puttana ma la cosa spaventosa è che non è il solo non è né il primo e né l'ultimo bambino innocente a cui fa del male se sappiamo tutti questi dettagli e non tutti perché alcuni li ho messi per ovvi ragioni è perché alla fine albert è stato beccato e arrestato ebbene sì ma il modo in cui è stato catturato purtroppo è attraverso un altro delitto ancora più osceno si tratta dell'ultima vittima confermata di albert fish una bambina questa bambina purtroppo ha subito una sorte simile a quella di billy e altri prima di lei ma la storia del suo caso è ben diversa adesso ci addentriamo verso le fasi finale del caso di albert fase estremamente intensa e purtroppo ancora più raccapricciante di quelle che avete sentito finora quella che sto per raccontarvi è la parte più schifosa e raccapricciante di tutta questa storia ancora una volta se pensate sia troppo chiudete senza problemi capisco benissimo è una storia davvero ai limiti della realtà il 25 maggio 1928 un uomo di nome edward bud mette un'inserzione nell'edizione domenicale del new york world in questa inserzione scrive giovane uomo 18 anni desidera impiego nel paese edward bud 406 west 15th street il 28 maggio dello stesso anno albert trova questo annuncio e non vuole certo farsi scappare un'altra preda già da tempo lui aveva cominciato a mettere annunci sul giornale dicendo che cercava personale ma ovviamente erano tutti i tentativi per avvicinare più gente alla sua trappola ad ogni modo alla fine fa visita alla famiglia di questo bud a manhattan e porta loro in dono della frutta e del formaggio la loro sembra una famiglia non proprio benestante quindi con astuzia non si presenta con suo vero nome piuttosto dice di chiamarsi frank howard e dice di essere un industriale di farmingdale si mostra come un uomo ricco un gentiluomo raffinato e gentile dato che un bravo manipolatore riesce a non destare sospetti informa la famiglia che ha letto l'annuncio e spiega di voler assumere edward in realtà ha intenzione di portarlo in un luogo isolato e virarlo e lasciarlo lì a dissanguare ma qualcosa fa cambiare i suoi piani in una maniera del tutto inaspettata si ritrova davanti sì il giovane edward ma anche una bambina decisamente più interessante per lui lei è la sfortunatissima grace bud di soli dieci anni ed è la sorella del ragazzo albert quindi cambia obiettivo vuole lei non gli importa più nulla di edward deve avere grace albert allora fa visita spesso a questa famiglia e dice di voler comunque assumere edward ma al contempo fa amicizia con la bambina cerca di graziarsela in ogni modo e purtroppo ci riesce ma non solo riesce anche a farsi dare fiducia dai genitori di grace così albert un giorno chiede loro se può portare con sé la piccola grace racconta che l'avrebbe accompagnata ad una festa di compleanno a casa della sorella e quel giorno i genitori acconsentono non hanno motivo di dubitare di un uomo tanto generoso e gentile ma purtroppo né albert né la piccola grace andranno mai a quella festa anzi una volta andati via di casa non si faranno vedere mai più passa qualche anno albert intanto ha circa 60 anni e si sposa con una terza donna durante una sorta di incontro per single la loro unione però dura solo una settimana è stata la moglie più veloce a mollarlo ma prendete questa informazione con le pinze perché da molte altre parti non si fa neanche cenno a questa cosa vi ho colpiti scusate nonostante tutto lui continua la sua vita come sempre manda lettere o scene a donne in cerca di mariti e fa le sue altre porcate ma nessuno si è mai dimenticato della sparizione della piccola grace che infatti venne subito denunciata a questo punto sono passati ben 6 anni dalla scomparsa della bambina 6 lunghissimi anni per troppo tempo si è rimasti in una situazione di stallo e terrore ma ad un certo punto in maniera completamente inaspettata arriva una lettera questa lettera è indirizzata proprio alla famiglia della bambina e per essere stata scritta da albert dico pare perché molte fonti dicono che fosse in alfabeta anche se altre dicono che avesse letto dei libri e che appunto mandasse lettere a varie donne quindi boh è una lettera un po' controversa sta di fatto che questo messaggio scritto è una vera e propria confessione albert o chi per lui spiega quello che è successo a grace e purtroppo racconta che anche lei è stata fatta a pezzi e mangiata per nove giorni di fila questa lettera oltre a far rivoltare lo stomaco di chiunque è una prova schiacciante dalla busta riescono a risalire a lui c'è da dire però che prima di albert la polizia aveva arrestato un certo charles edward pope il 5 settembre del 1930 era un 66 anni sovrintendente di un palazzo e fu accusato dalla sua stessa moglie una mitomane passò 108 giorni in prigione tra il suo arresto e il processo ma non è chiaro se lui fosse un criminale o meno l'unica cosa chiara è che almeno con questo particolare delitto lui non c'entrava nulla ma quindi come sono arrivati ad albert ecco sulla lettera c'era un emblema particolare piccolo ed esagonale con scritto NYPCBA New York Private Chef First Benevolent Association questo è un indizio molto particolare quindi venne fatta una perizia grafologica su tutti i membri di questa associazione il giovane custode dell'edificio ammise di aver preso un paio di fogli di carta da lettera e delle buste di questa associazione e disse di averle lasciate nella camera di una locanda quindi gli investigatori andarono in questa locanda e la locandiera rimase scioccata quando le venne fornita la descrizione di questo presunto Frank Howard ovvero il nickname di Albert la donna affermò che quel signore aveva vissuto lì per ben due mesi e che passava ancora regolarmente dalla locanda a ritirare le lettere che un suo figlio gli recapitava a quell'indirizzo quindi fu semplice beccarlo bastò attendere che arrivasse una lettera e che Albert andasse a richiederla e così accadde la polizia lo fermò in quella locanda e lo portò in centrale per fargli alcune domande lui oppose resistenza ma alla fine riuscirono a portarlo via da qui hanno inizi una serie di confessioni abominevoli a dire poco a partire da ciò che c'era scritto in quella famosa lettera ai genitori di Grace ora la leggerò saltando alcune parti di nuovo se pensate sia troppo schippate o togliete il video iniziamo mia cara signora Bud nel 1894 io e un mio amico decidemmo di andare in Cina e salpammo da San Francisco diretti a Hong Kong a quel tempo esisteva molta carestia in Cina c'era la fame e la povertà dilagava per mangiare qualsiasi cosa il prezzo variava da 1 a 3 dollari la gente soleva vendere i propri bambini sotto i 12 anni per comprarsi un po' di cibo un ragazzo o una ragazza sotto i 14 anni non erano sicuri in strada tu potevi andare in un negozio a chiedere della carne e specificatamente ti tagliavano la parte di un corpo di un bambino o di una bambina che desideravi le parti del corpo più gustose erano persino maggiorate di prezzo il mio amico John stette così a lungo che ci prese gusto nel mangiare carne umana quando tornò a New York rapì due ragazzi uno di 7 e l'altro di 11 anni li portò nella sua abitazione e li rinchiusi in un ripostiglio spesso ritornava giorno e notte così che la loro carne diventasse buona e tenera dapprima uccise il bambino di 11 anni perché aveva il sedere più grasso e sicuramente c'era molto da mangiare ogni parte del suo corpo fu cucinata e mangiata eccetto la testa le ossa e gli intestini fu arrostito bollito cotto alla griglia fritto e cotto a stufato il più piccolo fece la stessa fine a quel tempo ero il suo vicino di casa mi aveva parlato del gusto di questa carne ed ero tentato di provarla quella domenica del 3 giugno 1928 vi chiamai e vi portai dei doni mangiamo il pranzo e Grace mi baciò fu in quel momento che mi venne voglia di mangiarla col pretesto di portarla a una festa di compleanno dopo aver chiesto il tuo permesso la portai in un'abitazione vuota a Westchester che avevo già acquistato quando arrivammo la bambina rimase fuori a raccogliere dei fiori mentre io andai al piano di sopra per togliermi i vestiti non volevo sporcarmi di sangue quando fu tutto pronto andai alla finestra e la chiamai mi nascosi nel ripostiglio mentre lei era in camera usci fuori e quando lei mi vide nudo cominciò a gridare e cercare di scappare io la presi e lei disse che avrebbe detto tutto a sua madre continuava a tirarmi calci mordere e sputare ho dovuto soffocarla per ucciderla poi la tagliai in piccoli pezzi così da poter portare il cibo nelle mie stanze cucinare e mangiare mi ci sono voluti nove giorni per mangiare interamente il suo corpo non l'ho violenzata volevo che rimanesse vergine questa lettera ragazzi è la cosa peggiore che io abbia mai letto comunque da qui in poi è tutta una strada in discesa per le autorità quale avvocato potrà mai giustificare un atteggiamento simile anche puntando sull'infermità mentale era chiaro che albert fosse pienamente cosciente al momento dei delitti inoltre tutto è stato evidentemente premeditato non ci sono scuse oltre a questo viene riconosciuto anche dall'autista del tram che lo aveva visto con la vittima precedente ovvero billy albert ora non ha scampo e racconta tutto quanto parla dei suoi reati quasi senza freno e soprattutto senza pudore non ha problemi a dire le cose indicibili che ha commesso e afferma che gli abusi che ha inflitto nella sua vita come vi ho già detto erano stati più di 400 parlando di sé della sua vita dice queste esatte parole ai poliziotti e ve le riporto per farvi capire la percezione che ha di sé e del suo stesso passato sono nato il 19 maggio 1870 a Washington mio padre era il capitano Randall Fish morì il 15 ottobre 1875 nella vecchia Pennsylvania Station dove spararono al presidente Garfield io fui messo nell'orfanotrofio di St. John a Washington rimasi lì fino a che non ebbi quasi 9 anni ed è lì che ho iniziato a sbagliare venivamo spietatamente frustati ho visto ragazzi fare molte cose che non avrebbero dovuto fare cantai nel coro dal 1880 al 1884 ero un tenore al St. John poi venni a New York ero un buon pittore per interni o anche altro avevo un appartamento e portai mia madre da Washington vivevamo al 76 West 101 street e fu lì che incontrai mia moglie dopo che i nostri sei bambini nacquero lei mi lasciò portò via tutto il mobilio e non lasciò neanche un materasso per i bambini su cui poter dormire sono ancora preoccupato per i miei figli penserete che potrebbero venire a visitare il loro vecchio padre in galera ma non lo faranno il processo di Albert Fish per l'omicidio premeditato di Grace Budd ha avuto inizio il lunedì 11 marzo 1935 a New York James Dempsey è l'avvocato a cui la procura affida la difesa di Albert Fish un ruolo decisamente infelice il processo dura 10 giorni ovviamente Albert gioca la carta dell'insanità mentale accenna al fatto di aver sentito voci da Dio voci che gli dicevano di togliere la vita ai bambini afferma inoltre che la violenza perpetrata a se stesso e agli altri gli purificasse l'anima e che Dio se fosse stato contrario ai suoi omicidi avrebbe già mandato un angelo a fermargli la mano come fece con il profeta Abramo diversi psichiatri poi parlano delle parafilie di Albert e includono coprofilia urofilia pedofilia e masochismo il capo testimone della difesa è un uomo di nome Frederick Wirtam uno psichiatra specializzato nello sviluppo dei bambini che condusse esami psichiatrici per le corti criminali di New York Albert gli raccontò con freddezza tutti i suoi crimini e le sue perversioni in seguito questo psichiatra dichiarò che l'uomo era proprio insano mentalmente un altro testimone della difesa è stata Mary Nicholas la figliastra diciassettenne di Albert la ragazza descrisse che lei e i suoi fratelli furono educati a picchiare Albert facendogli del male in modo consensuale disse queste parole un giorno andò nella sua camera con un piccolo paio di calzoncini calzoncini marroni l'indossò e venne fuori davanti alla stanza mettendosi sulle ginocchia e sulle mani a gattoni aveva anche un pennello con il quale mescolava la pittura dava quel bastoncino ad ognuno di noi e poi dovevamo sederci sulla sua schiena uno alla volta e alzare delle dita lui doveva indovinare quante dita avevamo alzato cosa che non faceva mai perché altrimenti noi non avremmo dovuto colpirlo a volte diceva anche più dita di quelle che noi avevamo veramente quando sbagliava avremmo dovuto colpirlo tante volte quante dita avevamo alzato alla fine di tutto ciò la giuria lo giudica sano di mente e colpevole il giudice espresse la condanna a morte Fisch arrivò nel marzo del 1935 nel carcere Sing Sing e fu giustiziato il 16 gennaio del 1936 sulla sede elettrica entrò nella camera alle 23.06 era tranquillo per niente spaventato e fu dichiarato morto tre minuti più tardi venne poi sepolto nel cimitero della prigione prima di morire disse che l'elettricità sarebbe stata la suprema emozione della sua vita cito inoltre aiutò il personale ad allacciare le fibbie della sedia attorno alle sue gambe e alle braccia appena prima che l'interruttore girasse dichiarò non so perché sono ancora qui pare che ci vollero due scosse per ucciderlo infatti durante la prima gli aghi che nel corso degli anni si era conficcato nel linguine mandarono in tilt la sedia elettrica ma dei testimoni raccontano che Albert morì normalmente alla prima scossa come qualsiasi altro detenuto e condannato alla sedia elettrica dissero anche che poco prima di morire esclamò che la scossa suprema era l'unica cosa che non avesse ancora provato ed è così che si spense l'uomo peggiore di quell'epoca il soprannominato uomo nero Albert Fish è stato un serial killer violentissimo il peggiore mai trattato su questo canale per quanto rivoltante è giusto però ricordare che individui del genere esistono e sono esistiti di sicuro ai tempi è riuscito a fare cose che oggi non sarebbero possibili cioè ai giorni nostri lo avrebbero beccato molto prima in ogni caso credetemi se vi dico che questo non è stato un video facile per me il caso di Albert Fish mi ha sinceramente provato non credo che proprio tutte le vittime di Albert saranno mai scoperte perché non è neanche certo che abbia commesso tutti i crimini che ha raccontato infatti di certi ce ne sono davvero pochi e spero sinceramente che siano solo questi ma in tutto ciò voi cosa ne pensate? oggi più che mai sono curiosissimo di leggere le vostre considerazioni conoscevate già questa storia? è stato difficile anche per voi ascoltarla? fatemi sapere tutto quanto intanto per i pochissimi fedeli che rimangono fino a qui anticipo che presto torneremo a parlare di Giappone esploreremo un caso agghiacciante avvenuto proprio nella terra del sollevante e dopo di ciò torneremo anche in Italia infatti vi racconterò una storia tra realtà e leggenda che è accaduta proprio qui quindi spero che rimarrete nei paraggi se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo di seguirmi anche su Instagram ragazzi se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao